Non ha fatto nemmeno in tempo a farsi conoscere e già si è dimesso. Il neopresidente di Arezzo Fiere e Congressi, Mauro Pallini, si è dimesso durante l'assemblea dei soci del polo fieristico. Dopo le dimissioni del direttore Raul Barbieri, Arezzo Fiere è adesso orfano anche del suo presidente, uomo inviato dalla regione toscana. Pallini è rimasto comunque nel CDA in attesa dell'aumento di capitale. Se tutto andrà come deve andare, Pallini potrebbe anche decidere di rimanere. La sensazione è che per quanto concerne la parte pubblica, solo Camera di Commercio e Regione Toscana siano ad oggi in grado di garantire l'aumento di capitale. Sul fronte provincia e comune di Arezzo c'è un silenzio che dice più di tante parole. Ovviamente le nostre sono solo illazioni, voci di corridoio, chiamatele come volete, ma non siamo ad oggi in possesso di informazioni certe. Le due amministrazioni potrebbero aver richiesto di mantenere i loro impegni non con denaro sonante, ma attraverso il conferimento di terreni e immobili. Intanto possiamo solo prendere atto della precisa volontà di Regione e Camera di Commercio di fare la propria parte, con cifra 9-0, per non gettare all'ortico un patrimonio pubblico come il polo fieristico aretino costato alla comunità milioni di euro. La giunta camerale si riunirà il prossimo 24 gennaio e Andrea Sereni si dice pronto a mettere sul piatto il milione di euro che compete all'ente che rappresenta.